procediamo ora nell'analisi del nostro edificio abbiamo adesso l'esigenza di analizzare i singoli ambienti della residenza in particolare estrarre alcune informazioni a noi servirà per ogni ambiente di sapere la destinazione d'uso dell'ambiente allora le quote le abbiamo già messe però ci serve di sapere anche la superficie totale e soprattutto la superficie delle aree finestrate cioè i metri quadri delle finestre oltre che individuare se il singolo ambiente è nella zona giorno o nella zona notte per fare questo utilizzeremo uno strumento di Archicad che è lo strumento zona o timbro di zona che troviamo qui sotto la categoria design allora che cosa fa questo strumento? praticamente individua una parte del nostro edificio un'unità spaziale e inserisce in questa area un timbro con delle informazioni per capire come funziona adesso metto un timbro così come è impostato attualmente allora nel nostro template che stiamo utilizzando con le impostazioni appunto dell'ultima versione di Archicad che è l'Archicad 26 in realtà il timbro di zona non è visibile subito ma appare soltanto un'etichetta con alcune informazioni allora come facciamo a togliere questa etichetta e a inserire il timbro di zona? allora per quello questa impostazione la facciamo soltanto una volta all'inizio allora per quello che riguarda l'inserimento del timbro di zona dobbiamo andare sotto qui in questo pulsante che è la gestione delle opzioni vista modello di cui ancora non abbiamo parlato ne parleremo più avanti allora cliccando qui per l'opzione vista modello corrente dobbiamo assicurarci di aver inserito il check su mostra timbro di zona io adesso lo faccio e vediamo che subito comparirà il timbro di zona che a noi interessa questa etichetta che a questo punto a noi non serve più si toglie disattivando questo pulsante in alto che ha notazione posizione etichetta quindi quando adesso andremo a inserire bene nelle nostre zone dovremo toglierlo adesso nel timbro che ho già inserito la seleziono e la cancello benissimo adesso dobbiamo andare a impostare la nostra etichetta perché adesso vedete ci sono soltanto alcune informazioni di default che sono di fatto il nome della zona che chiaramente non può essere inserito in automatico ma dobbiamo mettere ogni volta il codice della zona che a noi per esempio non interessa l'area che a noi interessa quindi la lasceremo ma dobbiamo mettere almeno anche l'area finestrata allora andiamo sulle impostazioni del timbro come sempre come tutti gli strumenti lo selezioniamo e sul pulsante impostazioni compariranno a noi tutte le informazioni del timbro le informazioni qui sono tantissime noi ci concentreremo su quelle che a noi interessano allora il nome della zona lo possiamo scrivere direttamente qui oppure scriverlo successivamente oppure scriverlo volta per volta per adesso lasciamo questa scritta nome e zona poi quando lo andremo a inserire scriveremo soggiorno, cucina, camera da letto quello che è concentriamoci un attimo sulla categoria adesso qui nel template ci sono delle categorie già impostate per esempio c'è una categoria residenziale una categoria ufficio e così via a noi ai fini del nostro lavoro di analisi interesserebbe creare due zone nuove una chiamata zona giorno con un colore e una chiamata zona notte con un altro colore allora come facciamo per creare queste categorie? allora chiudiamo questa finestra andiamo su opzioni attributi elementi vedete c'è una voce che è categoria zone quindi clicchiamo qui e qui troviamo le zone che vedevamo prima che cosa dobbiamo fare? creare una nuova zona quindi clicchiamo sul tasto nuovo scriviamo che ne so zona giorno e clicchiamo su ok a questo punto alla zona giorno gli dobbiamo associare un colore clicchiamo sulla palette dei colori e andiamo a scegliere un colore scegliamo dei colori chiari perché almeno le scritte poi possano risaltare bene in questo caso scelgo un colore giallo quindi ho creato una zona giorno gialla ne creo un'altra la chiamerò zona notte ok e scelgo anche qui un colore chiaro nel mio caso celeste che sarebbe ciano ok confermo tutto con ok adesso se arrivato sulle impostazioni delle categorie troverò anche le due zone nuove che ho creato adesso stiamo lavorando sul piano terra quindi è zona giorno possiamo selezionare direttamente zona giorno adesso andiamo a vedere le varie impostazioni allora non ci soffermeremo su tutte perché alcune a noi non interessano possiamo tranquillamente lasciare quelle di default allora sulla pianta non abbiamo nulla da impostare sul timbro di zona ci viene detto che c'è il timbro di zona standard e a noi questo va benissimo andiamo a vedere lo stile testo del timbro allora qui fermo restando che lasciamo il numero di penna e tutte le impostazioni, il tipo di carattere che volendo si può personalizzare a noi quello che interessa in questo caso è l'altezza del testo che è impostato su 3 mm allora come vedete 3 mm insomma è un po' impegnativo perché in questo ambiente 3 mm andrebbe pure bene però poi abbiamo degli ambienti più piccolini dove mettere un timbro di questa grandezza porterebbe a dei problemi allora qui io consiglio di mettere 1,5 come altezza del testo andando avanti andiamo sui settaggi che è la cosa più importante allora lo strumento zona permette di creare dei timbri che possono essere sensibili alla scala cioè che cosa vuol dire che a secondo della scala del disegno verrà inserito un timbro con alcune informazioni quindi anche alcune impostazioni di testo e quant'altro vedete c'è la possibilità quindi di impostare sullo stesso timbro alcune informazioni a scala 1,50 altre a scala 1,100 altre a scala 1,200 ricordo che la scala del disegno non la impostiamo qui in basso allora nel nostro caso anche per semplificare un po' tutte le operazioni diciamo che a noi questa cosa non interessa e che quindi uniformiamo direttamente tutte le visualizzazioni a un unico timbro che tanto sarà in scala 1,100 andiamo a vedere adesso che cosa inserire nel nostro timbro andando avanti qui abbiamo il contenuto del timbro allora noi interessa mettere il nome della zona il check deve essere metto il numero della zona non interessa non mettiamo il check l'identificazione ugualmente non interessa i dettagli nemmeno le finiture dei pavimenti lo togliamo i valori dell'altezza non interessano l'area della zona non interessa quindi in questo caso dovremo mettere il check su area misurata l'area finestrata interessa per cui mettiamo il check anche sull'area finestrata e il resto a noi non interessa possiamo anche aggiungere dei testi particolari andando avanti sui dati di base non dobbiamo cambiare nulla non ci interessa ugualmente qui sulle finiture dell'altezza neanche ecco qui quando arriviamo su area e volume dobbiamo mettere il check appunto su area misurata e area finestrata che sono le informazioni che noi vogliamo inserire qui abbiamo anche la possibilità di personalizzare diciamo così il prefisso del valore che il software calcolerà per esempio a posto di A possiamo mettere area il problema qual è che mettendo area poi dopo il timbro diventa ancora un pochino più grande quindi possiamo tranquillamente lasciare A tanto si capisce benissimo area finestrata AF non so se vogliamo mettere F minuscola mettiamo F e va bene così le altre non interessano andando avanti abbiamo la possibilità di mettere anche dei testi personali il resto delle opzioni non ci interessano ricordo che stiamo sul lucido che si chiama unità modello zona che a noi ci interesserà poi in sede di impaginazione delle tavole e confermiamo benissimo adesso per vedere il risultato della nostra operazione andiamo a mettere un timbro di zona in questa parte alta quindi facciamo un clic un altro clic e vedete abbiamo inserito la zona è rimasto questa etichetta per il semplice fatto che ci siamo dimenticati di toglierla nelle impostazioni per cui annulliamo il comando togliamo l'annotazione della zona facciamo un clic un altro clic e abbiamo inserito la zona per quello che riguarda il nome della zona il nome della zona si può gestire qui nel senso che in questo caso possiamo scrivere quello che a noi interessa che adesso soggiorno poi dopo vedremo bene le destinazioni clicchiamo su ok e no scusate prima dobbiamo selezionare la nostra zona ecco importante è questo e ovviamente come per tutti i comandi di Archicad se noi andiamo a gestire le impostazioni gestiamo le impostazioni per tutti i comandi che daremo da quel momento in poi se vogliamo invece cambiare una impostazione di qualcosa che è già disegnato la dobbiamo prima selezionare allora per poter inserire la voce soggiorno qui dobbiamo prima selezionare la zona allora qui c'è il problema che abbiamo più elementi sovrapposti nel senso che qui abbiamo sia l'elemento sonaglio che l'elemento zona che sono uno sopra l'altro allora se io faccio un clic ecco nel mio caso come vediamo dall'etichetta ho selezionato non la zona ma il solaio per passare all'altro elemento sovrapposto si fa col tab della tastiera quindi col tab della tastiera si passano in rassegna tutti gli elementi sovrapposti quando individuo quello che a me interessa confermo con il tasto invio a questo punto vedete la zona è selezionata in questo caso sul nome zona posso scrivere soggiorno cliccare su ok e abbiamo messo la nostra etichetta la nostra etichetta è completa nel senso che abbiamo quello che a noi interessa un colore che individua la zona giallo zona giorno la destinazione d'uso soggiorno l'area dell'ambiente e l'area della superficie finestrata se io togliessi una finestra facciamo questa prova prendo una finestra e la cancello in prima battuta l'area finestrata rimane invariata però abbiamo la possibilità di aggiornarla su design aggiorna zone aggiorna tutte le zone vedete l'area finestrata è diventata al zero perché chiaramente questa è una porta abbiamo tolto la finestra e non c'è più non ci sono più finestre nel nostro caso annullo e ritorno alla situazione iniziale ecco